Grande, bravo! Blogger Extreme, numero uno! Buongiorno a tutti, pronti? E' qua la fregolotta! Buongiorno! Qual è? Buongiorno! Ma come? Come? Come a Napoli! Disaster 50! Guarda! Mio Dio! 3, 2, 1... Vai! 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 Alta! 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 Ma! Ma! Grazie! Allora, seconda prova! Occhio! Bisogna scegliere uno a squadra, prendere uno dei suoi stivali e buttarlo fino giù al bosco! Ma l'hai studiata te sta cazzo? No! 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 Fa preoccupato! Horrante! No! Vai! 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 mi dice di far così il blogger foto a 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